Guagni in qualche modo passa sull'ex della Fiorentina Zanoli come Guagni, c'è la palla al centro, Piemonte spaccata! Ma che gol ha fatto Martina Piemonte! 1-0 Milan! Spaccata al volo di Martina Piemonte, forse il gol più bello del suo campionato, va in profondità, serve Bergamaschi, gran palla di Capitano Bergamaschi.